Buongiorno ragazzi, allora anche oggi facciamo un po' di trading, allora la strategia è sempre la stessa, poi vi metto i link in descrizione, però qui vedo veramente una situazione in cui entrare e andare long, allora vado su Bitget, vado su Trading, vado su Future, vado su BTC, Bitget è la piattaforma che utilizzo per fare trading e copy trading, andiamo su mercato, ok, e apriamo, abbiamo disponibile 695 USDT, li mettiamo tutti, apri a leva 24, acquista long, si non esageriamo, siamo entrati long ragazzi, siamo entrati long e questa è la situazione, adesso io mi aspetto un bel movimento tutto verde in avanti e fare un bel profit, siamo già a 12 USDT, allora vi ricordo che se volete fare trading con Bitget c'è la mia promozione, a parte il torneo, ma per tutti i nuovi utenti dal 1 al 31 marzo, iscrivetevi con il mio link, trovate il link in descrizione il primo link, vi iscrivete, così avete anche il 10% di sconto sulle fee, poi il secondo link, lo cliccate e depositate per la prima volta, vi registrate all'Airdrop anche, perché regaleranno BGB gratis, il token di Bitget che sta performando da Dio, quindi soldi gratis, è quasi arrivato a un doll, cioè è arrivato a un dollar, adesso è quasi, forse è ritracciato un po', ma soldi gratis io non li perderei, dopodiché depositate 50 USDT, ne avete 20 di bonus e se raggiungete 10.000 USDT di volumi, che è molto semplice, ne avete altri 20, così avete 90 USDT che potete utilizzare, vi metto il link della mia strategia, scusate il video nelle schede che vi spiega i due indicatori che sto utilizzando e praticamente anche il video di ieri in cui l'ho testata e oggi cercheremo di fare un bel po' di profitto e poi, altra cosa importante, se già che ci siete, volete fare trading e volete provare questa strategia, andate poi nel terzo link, il terzo link che trovate in descrizione e vi registrate al torneo, perché tutto il trading che farete dall'1 al 15 marzo potreste vincere ulteriori soldi e premi. Vi basta andare nel link del torneo che trovate in descrizione, cliccare qui registrati e poi tutto il trading che farete parteciperà alle due classifiche, la prima classifica è in base a ROI e ci sono 10 posti che si divideranno 25.000 USDT, quindi chi guadagna di più dal trading e poi chi farà più volumi, c'è una seconda classifica dove ci sono tutti i premi della Apple, ok? Quindi, questa è la nostra strategia, trovate tutti i link in descrizione sia del torneo sia dei bonus e vediamo, adesso facciamo un po' di trading live, spostiamo questo che è, diciamo, il software per registrare. Allora, andiamo a cercare, vediamo BTC, USDT innanzitutto, e di BitGet vediamo, abbiamo BTC, USDT, spot, ma io voglio BTC, ecco qua abbiamo i perpetual mixed contract, però i future di BitGet, BitGet non ci sono, su TradingView, BitGet, no, non so cosa sia questa cosa, ok, Nix, bisogna, oh, BTC, 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 no, 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 non ci siamo, BTT, allora mettiamo i BTC, BitGet perpetual, questo qua, ok, quando molto brevemente le candele sono sopra la linea nera, che è l'indicatore che abbiamo messo, vuol dire che siamo, apriamo un'operazione long e alla prima candela, guardate qua, alla prima candela rossa chiudiamo l'operazione, ok? Molto, 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 molto interessante, purtroppo questi video poi diventano noiosi perché, però, voglio fare trading live qui con voi, quindi vi ricordo che non sono un consulente finanziario, io non sono un trader, sto sperimentando questa strategia, vi metto il video nelle schede se la volete anche voi copiare, è una strategia su Bitcoin, time frame 5 minuti con due indicatori e è molto semplice, in questo momento che, diciamo, il trend di Bitcoin è, diciamo, verso l'alto, funziona molto bene, in caso di lateralizzazione mi hanno detto non funzionare, ma a noi non interessa, la utilizziamo in questo periodo, ok? Qui è tutto verde e quindi molto semplice, quello che mi piace, ecco, dicevo, è il fatto che è molto semplice da gestire, perché se noi ci impostiamo delle regole, quindi entriamo long quando supera questa linea nera e andiamo short quando le candele sono sotto, poi, se andiamo long, chiudiamo l'operazione alla prima candela rossa che vediamo, basta, senza pensare, se siamo in profitto, un po' di profitto, un po' di stop loss, non mi interessa, se vedo una candela rossa io chiudo, chiudo, chiudo tutto, è molto semplice, quindi, è anche, perché qual è il problema? Perché tu, quando vedi un po' di verde, anche qua, adesso è rosso, sto perdendo 15 USDT, però, quando vedi un po' di verde, non sai mai se chiudere o non chiudere, finché non vedo la candela rossa, io non chiudo neanche quando sono in positivo, quindi, è una strategia che ti fa anche fare profitto in modo più semplice, perché riesci a gestire meglio anche il take profit, non soltanto lo stop loss. Fantastico, mi avete scritto in tanti di voi che la state utilizzando e che state guadagnando, questo mi fa molto piacere, se volete provare, per i nuovi utenti, non vi siete ancora iscritti a BitGet, usate il mio link che trovate sotto, perché vi registrate, 10% di sconto, BGB gratis, basta cliccare qui, registrati, fate un deposito di 50 USDT e ne ottenete 20, ovviamente i 20 sono bonus, che voi potete utilizzare solo per fare trading, non potete prelevarli, però quello che guadagnate col bonus, che cosa fate? Potete prelevarlo, fantastico, e in più se fate 10.000 USDT di volume sui future ne avete altri 20. Andiamo a vedere termini e condizioni, questa campagna è riservata ai referenti di Michele Marallino, quindi il link in descrizione, crea un account usando il nostro link esclusivo per i partner, sblocca vantaggi esclusivi. Il monte premi totale di 3.000 USDT sarà distribuito in base all'ordine di arrivo, quindi affrettatevi ragazzi. Per poter vincere i premi, gli utenti devono completare la verifica KYC durante il periodo della campagna, ok, importante, fate il KYC. BitGet si riserve il diritto di interpretazione finale delle regole di questo evento, per maggiori informazioni sul trading bonus visita questo link. BitGet si riserve il diritto di cambiare il giornale o cancellare i termini di questo evento in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo senza preavviso, proprio esclusiva di descrizione. BitGet si riserve il diritto di squalificare gli utenti che svolgono attività illecite durante l'evento, tra cui non solo il wash trading e l'utilizzo di account multipli. È importante ricordare che l'utilizzo dello stesso dispositivo o il superamento del KYC saranno considerate attività di un singolo utente. Ok, poi volete fare trading? Che vi costa? Riservato solo ai partner, quindi tutte le persone che sono iscritte con il mio link, registratevi al torneo perché potreste vincere ulteriori premi, se vi classificate dall'uno al decimo per profitti guadagnate tanti USDT, in base anche al volume che fate. E poi in base ai volumi che fate, vincete anche MacBook, iPhone, Apple Watch, mi raccomando, link in descrizione. Andiamo a vedere come sta andando la nostra operazione, stiamo perdendo, anche se qui ci dice di no, però BTC USDT non mi piace. Facciamo USDT, BTC USDT, voglio lo spot di BTC USDT, vediamo, 66, 394, 473, questo addirittura è meno, 407, 485. meno 55 USDT USDT ragazzi, però qua tutto è tutto verde, mettiamo il dollaro, perché col dollaro BTC USDT USDT è molto più simile a BitGate. Staremo a vedere, intanto qui stiamo perdendo 65 USDT. Allora, abbiamo messo 678 USDT a leva 24, quindi siamo entrati a 66,7. Ok, bene, continuiamo. Non riesco a trovare BitGate Future su 3D. Se qualcuno di voi, ragazzi, sa che sta usando questa strategia, sta usando BitGate, scrivetemi nei commenti. Comunque, meno 50 USDT. A questo punto dobbiamo aspettare, ragazzi, finché le candele sono verdi, noi restiamo verdi. Quindi magari taglierò un po' per non rendere noioso il video, poi ci rivediamo quando magari c'è un profitto notevole. Stiamo recuperando comunque meno 46, meno 45, meno 41, meno 39. Dai ragazzi, dai, dai. Andiamo in profitto. Oggi ci vogliamo portare a casa un bel profitto interessante. Ok? Voglio vedere qui tutto verde. Quello che mi sono perso ieri. Guardate comunque gli short, come li prende bene. Se non è in questo momento questa strategia è buona, ci può far guadagnare bene. Vi lascio nelle schede il video dove vi spiego. Meno 28 USDT. Bisogna poi avere pazienza, ragazzi. Bisogna poi avere tanta, 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 tanta pazienza. Meno 15 USDT. Qua è tutto regolare. Stiamo utilizzando BTC dollaro, che mi sembra. BTC sul dollaro, molto simile a BTC future di Bitgett. Quindi lasciamo questo grafico. Ok. Anzi addirittura Bitgett è più alto il prezzo. Meno 18 USDT. Qui è tutto verde, lasciamo così. Siamo a 10 minuti di video. Vediamo, vediamo che succede. Vediamo che succede. Secondo me oggi si sale ancora. Bitcoin ha toccato i nuovi massimi, credo, nella notte. Quindi secondo me è un 67.000, potremmo chiudere. Andiamo a vedere se mettiamo lo stop loss, cioè il take profit a... 67.3, guadagniamo 144 USDT. A 67.9, 300 USDT. Mettiamolo a 68. 314 USDT. Se tocca di nuovo i 69, oggi guadagniamo 500 USDT. Diventa interessante. Quindi qui adesso voi avete due strade, anche io. O metto un bello stop loss, quindi lascio così. metto stop loss e take profit senza controllare, guardare, oppure ci sto dietro. Intanto qua stiamo salendo, 66.7. Siamo di nuovo verdi, ragazzi. Io quasi quasi metto, allora, lo stop loss lo metto a 65.000. Vedete, la strategia che vi ho spiegato nel video diceva di mettere lo stop loss un po' al minimo precedente. Io metterei 65.7. Vediamo quanto perdo. Se metto lo stop loss a 65.000, 66, 64, 65, cavolo. 65.7, ragazzi, io perdo 245, 238 USDT su un'operazione da 600, credo. Quindi, no, magari possiamo fare 66, 65.7, mi piace come stop loss. Se va male, però perdiamo 200 USDT e se va a 68,9, guadagniamo 500. Rapporto 1 a 2, credo, non lo so. Rischio 235 per guadagnarne 549. Interessante, però al momento non lo voglio mettere. Siamo a 11 USDT e qua continua ad essere verde, ragazzi. Io continuo. E il bello di questa strategia, ragazzi, è la gestione. La gestione. Fin quando siamo sopra, noi lasciamo aperta l'operazione. Ora stiamo guadagnando 11 USDT. Anzi, secondo me, il mio consiglio è stateci, cioè, fate scalping, perché un time frame di 5 minuti è scalping. Stateci dietro, senza mettere take profit e stop loss. Aprite l'operazione e ci state dietro, come sto facendo io in questo momento. Se vedete una candela rossa, chiudete e basta. Magari chiudete anche in profitto, perché magari la candela rossa la beccate qua. E stop. E quindi molto, molto seriamente. Anche quando, vedete, siamo andati in negativo. Però qui il grafico mi diceva tutto verde, quindi io stavo tranquillo. È un'ottima strategia. Fatemi sapere voi nei commenti. Oppure potremmo portare, se diciamo un'altra strategia potrebbe essere quella di portare lo stop loss in pari. Magari, se stiamo guadagnando tanto, magari per portare l'operazione senza rischi, no? Magari io porto, arriva a 67.000, magari metto lo stop loss a 66.700 e comunque guadagno, perché io ho aperto l'operazione a 66.000. A quanto ho aperto l'operazione? A 66.700. A 66.700.000, capito? Quindi, anche se perdo, non perdo niente. Ma noi lasciamo, lasciamo correre. Quindi, se ci dobbiamo staccare dal, dal, dai grafici, ci dobbiamo mettere take profit e stop loss. Se dobbiamo restare live, dobbiamo restare qui ad aspettare e controllare. Certo, può essere snervante. Magari possiamo mettere un take profit più stretto, magari. voglio perdere solo 100 dollari, voglio rischiare solo 104 dollari, lo metto a 66.2, però è molto stretto. Secondo me è 65.7, 65.7. Stiamo larghi, perdiamo praticamente solo 245 USDT e andiamo come... Eh, come take profit la strategia è, se questo è, se io faccio qui, apri, posizione long, no? Qua. Sono entrato, diciamo, a 66... Quanto sono entrato? Sempre il mistero. 66.7.20. 66, impossibile. Vabbè, facciamo conto che siamo entrati qua. Se lo stop loss è qua, take profit, 1.5, lo potremmo mettere a 67.6, 44. La qua è un po' sballato. Comunque, siamo in profitto. Visto che non si trova, diciamo, il... Il grafico... BTC sui future, su... Comunque, qua eliminiamo, io rimango live. Siamo a 14 USDT, vorrei... Anche se, secondo me, bisogna lasciare aperta questa operazione. Perché si può, nella giornata di oggi, arrivare... Arrivare... A dei bei introiti. Siamo a 15 dollari. 16 dollari. Vi ricordo, ragazzi, in descrizione, iscrivetevi con il mio link. Ci sono 3.000 USDT, chi prima arriva, prima se li cucca. Dall'1 al 31 marzo, vi iscrivete con il mio link. E poi, andate a cliccare. Quindi, vi iscrivete con il primo link che trovate. Avete il 10% di scatto sulle file. Poi, tornate sul video. Secondo link, vi ritrovate su questa pagina. Vi registrate al BGB AirDrop, così avete BGB gratis. Depositate, cliccando qui, i primi 50 USDT, così ve ne arrivano 20. E poi, se fate 10.000 USDT, praticamente, di volumi, ne avete altri 20. Ora, qui non so se c'è scritto, però, nella promozione di, credo che valga la stessa cosa anche qui, nella promozione di febbraio, diciamo che c'era scritto che i premi venivano distribuiti, i premi venivano distribuiti sette giorni dopo il termine della promozione. Quindi, i bonus vi arrivano dopo il 31 marzo, sette giorni lavorativi dopo, credo anche in questo caso. Comunque, qui, 12 USDT, secondo me la dobbiamo lasciare aperta, ragazzi, e poi magari vi aggiorno. In descrizione trovate tutti i link, c'è anche il link del torneo per tutti i partner, quindi vi basta iscriverti con il mio link e siete partner. E poi cliccate sul link, terzo link che trovate sotto questo video, cliccate su registrati, registrati, ora a me è già, c'è a me qua la registrazione effettuata, voi avrete un pulsante giallo, cliccate, tutto il trading che fate, magari siete in classifica, primi 10. Intanto vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Tutta questa gente, ci sono 46 partecipanti, e tutta questa gente sta facendo profitto. Vediamo se sul primo si può cliccare, no? Non ci fa andare sul profilo. Molto, molto, molto interessante. Io credo di dover lasciare l'operazione. Qui ancora mi dice BTC sul dollaro, che è tutto verde. Facciamo BTC USDT. Preso da Binance, 66, 699, addirittura qui è più alto. 13, 16, 15, 17 USDT, 20, 21 USDT. Sta salendo raga, sale, sale, sale. Eh, l'ho preso, l'ho preso, 66,8. Bitcoin, Bitcoin, sta volando. Sta volando. Sta volando. In 20 minuti di video, ragazzi, abbiamo fatto 15 USDT. Vabbè, ora sta scendendo. Però l'operazione, ragazzi, incredibile, incredibile. Allora, lasciamo live. continuo a seguire. Continuo a seguire. Vediamo BTC USDT, che cosa mi dà? Bitcoin USDT di Gemini. Me lo dà 66, 6,98. No. BTC USDT di Bitget. Io sono su Bitget, però mi dà lo spot. Lo spot non è uguale, non è assolutamente uguale ai future, però vedete, è perpetuo. Quindi, vediamo BTC USDT, Bitget spot, e poi, Bitget, non c'è, non c'è, questo non è proprio lui. 66,797. No, sì, è lui, 7,87. Quanto stiamo? 17 USDT, 14. Adesso c'è un po' di oscillazioni, ragazzi, ma questa strategia, cioè, finora non ha messo in pericolo nulla, sì. Potevo chiudere a 20 USDT di profitto. Siamo a 15, però aspettiamo un po', 21 minuti di video, però, cioè, io la lascio aperta. La lascio aperta, questa operazione, perché siamo ancora a segnale bello che è andato. 66,8, 66,7, siamo rossi, davvero interessante. Però, sapete che cosa faccio? 3 USDT, 4 USDT di guadagno, vediamo se pompa. è questo. Ecco perché tocca mettere lo stop loss, il take profit, così poi non è che ci dovete stare vicino. Però, essendo scalping, 17 USDT, stiamo guadagnando il 2%, 18 USDT, 19 USDT, vai Bitcoin. Cioè, io non posso chiudere l'operazione, ragazzi. Non la posso chiudere. 66,8, forza, forza, arrivare a 67. Chiamo un take profit, take profit a 60, 67, eh, 67,100, sarebbero già 112 USDT guadagnati. Ci potrebbe arrivare, ci potrebbe arrivare, se per amor del video arrivasse adesso, per me, sarebbe bellissimo. 23 USDT, secondo me sta spingendo, ragazzi, spinge, 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 spinge ragazzi. Allora, qui noi abbiamo anche, possiamo vedere, se non ricordo male, anche, c'era un, no, forse perché ho nascosto il, ho nascosto il grafico. Ok, candelone, siamo a 30 USDT di guadagno, ragazzi. 30 USDT, poi in base anche all'importo, ora, non esagerate con le leve, e comunque se il trading vi piace, io non sono un trader, questi non sono consigli finanziari, vi faccio vedere quello che faccio io, 32 USDT di guadagno, e voi dovete studiare con la vostra testa, se vi appassiona, studiate. Qua si continua a salire, ragazzi, 31 USDT, in 25 minuti, dai, a 25 minuti, vediamo quanto abbiamo fatto, magari, no, allora, no, siamo ritornati a 25 USDT. Quindi, mi raccomando perché il trading, ci sono mille variabili da tenere in considerazione, non pensate che questa strategia vi abbia risolto i problemi della vostra vita, perché in questo momento funziona, perché Bitcoin è in un trend positivo, però, studiate, studiate, non, diciamo, io faccio questo io per condividere la mia esperienza, siamo ritornati a 6 USDT, veramente, starci dietro così è tosta, però, se io avessi avuto, magari, vedete, 10.000 USDT, a quel punto, quando, vabbè, non cambia, noi seguiamo la regola, effettivamente, quando vediamo la candela rossa, chiudiamo, andiamo di nuovo a 31, 25 minuti, potremmo fare 30 dollari in 25 minuti, sarebbe un grande titolo, 33 USDT, anzi, facciamo una cosa, condividiamo, dove si poteva condividere, l'operazione, qui, shariamo l'operazione, mettiamo sia la leva, l'importo e il prezzo, abbiamo fatto il 5%, quindi 35 USDT, questo faccio scarica, sto scaricando, ho scaricato, sì, 35 USDT in 25 minuti, ragazzi, se avessi chiuso, è pazzesco, è pazzesco, però non ho chiuso, quindi, continuiamo, continuiamo, BitGate vorrebbe, ho scaricato il file, download bloccato, no, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, 30 USDT di nuovo, ragazzi, 31 secondo me, qua dobbiamo restare con i nervi calmi, perché secondo me a 67, ci arriva, possiamo fare, beh, beh, questa è un'operazione che, 34 USDT, benissimo, questa è un'operazione che ci può far, sognare, ragazzi, 33, 36 USDT, 37 USDT, candeloni, ragazzi, candeloni, 36, arriviamo, facciamo, 37, attenzione, 37, ve lo metto qui, 38, dai, dai, dai che arriva, arriverà a 67, cioè io non la, 39, 38, io non la chiudo, cioè se la chiudo, per l'amore del video, 40 USDT, l'avete visto anche voi, allora ragazzi, veramente, approfittivo, ne approfitterei in questo momento, questa strategia è abbastanza bella, 32, ok, molto semplice, chiudiamo l'operazione quando c'è una candela rossa, e buonanotte, e buonanotte, però non credo durerà per sempre, penso che a un certo punto, bitcoin, scaricherà qualcosa, allora, facciamo così, a 30 minuti, vediamo quanto, quando andiamo, in mezz'ora, ok, per fare il titolone del video, ah, stiamo scendendo, non so se riuscirò, a fare il titolone, siamo a 12 USDT, però, avrei potuto chiudere, abbiamo qui l'immagine, attenzione, guardiamola, in 25 minuti, avevamo fatto, 35 USDT, fantastico ragazzi, fantastico, c'è anche il mio refer, se condivido, questa foto, allora, siamo tornati a 32, 36, non si ferma bitcoin, arriverà a 66,9, 38, allora, a mezz'ora, 37, 38, 36, a questo punto, potrei alzare, no, non alzare, 40 USDT, potrei, take profit, allora, potrei mettere lo stop loss, a 65, 6, e 98, a 65, facciamo 65, 8, 65, 9, 33, dai che va, dai che va bitcoin, dai che va, 38 USDT di guadagno, 36, forza ragazzi, forza, in 30 minuti, dai, vediamo a 30 minuti, cosa riesco a fare live, è pazzesco, allora, vi ricordo intanto, tutti i link in descrizione, per avere i bonus, fino a, 40 USDT bonus, 50 USDT di deposito, ne avete 20, 10.000, 10.000 di volumi, altrimenti, poi, BGB gratis, quindi, registratevi con il mio link, e poi, se fate trading, non vi costa niente, andare sempre in descrizione, andare nel link del, del torneo di trading, e cliccare, registrati, e poi magari, controllare, se non avete vinto qualcosa, allora, 41 USDT, 29 minuti, si vola ragazzi, si vola, dai, chiudiamola bene, chiudiamola bene, in mezz'ora, oh, 40, metti che portiamo a casa, 40 USDT in mezz'ora, 40 dollari, la gente, si ammazza per guadagnarli, con, quanto ho messo, 678 USDT, non sono neanche tanti, alleva 24, ci piace, allora, arriviamo a questo, 68 e 9, dai, 43 USDT, dai, 66 e 9, e poi arriviamo, puntiamo ai 67, 40 USDT, forza ragazzi, 41, attenzione, in mezz'ora, sì, 41 USDT in mezz'ora, potrei chiudere il video, ma, secondo me, questa è una buona operazione, da lasciare aperta, guardate qua, 41 USDT, allora faccio, metto lo stop loss, in positivo, come faccio a metterlo, così, a 66 e 7, non posso metterlo, stiamo riscendendo, allora, controlliamo sempre il grafico, che le candele siano verdi, potremmo anche dimenticarci, di questa, operazione, però, stiamo facendo il video live, non è semplice, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, e, andatevi a guardare gli altri video, il trading, in questo momento, su bitcoin, favorevole, 41 USDT, allora, facciamo, facciamo, 40, condividiamo questa, 6%, importo, prezzo, abbiamo fatto, 43 USDT, in 30 minuti, che è il dolore del bloccato, forza, tac, vabbè, faccio, copia link, siamo a 44 USDT ragazzi, oh, 66 e 9, vai, 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 non ti fermare, vediamo adesso se condivido, mi dice, così, così, e così, 46 USDT, in 31 minuti ragazzi, copia link, bomba, io adesso chiudo, per amor del video, diciamo che il guadagno è stato questo, se clicco, no, 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 non funziona, lasciamo aperto in realtà ragazzi, lasciamo aperto, 42 USDT, 44 USDT, dai che parla, dai che arriva a 67, siamo a 66 e 9, 46, 48, facciamo 50 USDT di profitto, in mezz'ora, e abbiamo un grande video, 46, secondo me a 67 ci arriva, 42, ok, 60, ora ritraccia un po', dobbiamo aspettare, questa è una buona operazione, questa è un'ottima operazione ragazzi, dobbiamo stare calmi, e portarci a casa, sarebbe bellissimo, ormai ci è venuto un video, un video reality, ok, iscrivetevi al canale, e vediamo dove ci porta, abbiamo preso un bel movimento, ditemi voi, ditemi voi, se questa operazione, non è bella, qui addirittura, potremmo effettivamente, lasciare tutto aperto, e mettere lo stop loss, però io non voglio, forse riesco a fare un piccolo guadagno, sicuro, che rischiare 200 USDT, sinceramente, quindi aspettiamo, aspettiamo la prossima, le prossime candele, qui sono sempre sopra la linea, e quindi, 66 e 9 ragazzi, si torna su, 54 USDT, 51, facciamo, condividi, 54 USDT, ragazzi, perché non mi fai scaricare, perché il download è bloccato, consenti, certo, quanto stiamo, 56, aspetta che adesso sono 56, 56, condividi, 57, l'8% abbiamo fatto, aspettate, 59, 61, cos'è, cos'è, partito, adesso, adesso, mamma mia ragazzi, che operazione, tutto live, 57 USDT, allora, andiamo in 35 minuti, 54 USDT, in 35 minuti, ci piace, facciamo 60 USD, oh, prima candela rossa, chiudere tutto, abbiamo guadagnato 53 USDT, strana, strana questa candela rossa, io però sono in profitto, andiamo a vedere, sul conto, conto future, conto future, sui future, ah, ok, siamo sui future, ragazzi, no, 33 USDT, abbiamo guadagnato, l'operazione di oggi, 33 USDT, in 33 minuti, potremmo dire, eh, qui la candela è rossa, mi piace un sacco questa strategia, ragazzi, e, mi piace un sacco, iscrivetevi al canale, guardate in descrizione, per avere i bonus, iscrivervi, fare il torneo, se vi iscrivete con il mio link, fino a 40 USDT di bonus, è BGB gratuiti, se vi iscrivete al torneo, fate il vostro trading, potreste vincere altri 25 mila USDT, e tutti i premi della Apple, fatemi sapere come vi sta andando a voi, il trading in questo momento, con questa strategia, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!